Musica 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 Bisognava vincere, lo si è fatto, oggi arriva un'altra grande prestazione Sì, abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo fatto pure una grande vittoria e questo è in merito di tutto il gruppo, perché ci sono giocatori che giocano di meno però hanno dimostrato stasera che il mister può contare anche su di loro Da una sosta all'altra, quello è un Napoli che ha sofferto un po', questo è un Napoli che invece segna, vince e diverte Sì, abbiamo, siamo rispetto all'anno scorso, stiamo facendo tanti gol, stiamo giocando bene esprimiamo il calcio che vuole il mister, quello che ci dice in settimana tutti insieme, anche ti ripeto, chi gioca di meno va in campo, sa i movimenti che deve fare e facciamo grandi risultati Andrea Carnevale nel pre-partito ha detto che questo Napoli è forte come quello di Maradona Tu cosa ne pensi e se sei consapevole del momento storico che state vivendo? Vabbè, io il Napoli di Maradona l'ho visto in videocassetta, è un grande Napoli Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché è solo un inizio e loro hanno vinto un scudetto noi non siamo ancora a zero Dobbiamo solo continuare a lavorare perché lavorando arrivano grandi risultati e grandi soddisfazioni Tu come stai, come stai il ginocchio? Tutto bene, sto bene, sto lavorando bene, sto tranquillo e cerco sempre di dare una mano ai miei compagni per vincere le partite Grazie a tutti